Beh sì, di fronte lo sapevamo, un'ottima squadra che gioca un buon calcio, un ottimo calcio, lo sapevamo e poi per una grande reazione dei ragazzi, una volta sotto addirittura per l'ennesima volta in inferiorità una grande reazione da vera squadra, da squadra che ci crede veramente e che ha voluto a tutti i costi recuperare la partita anche sviluppando un buon calcio e quindi sicuramente è un punto guadagnato per come si era messa la partita. E un primo tempo un po' sofferto, poi i cambi che sono stati senz'altro decisivi? Primo tempo non facevamo le cose che abbiamo provato perché poi ogni tanto il problema nostro è che partiamo con tratti partiamo un po' con il freno a mano tirato, io ci sto lavorando da tanto tempo, da quando sono arrivato perché poi se non fa determinate scalate che proviamo è chiaro che l'avversario poi trova spazi il Venezia è una squadra che fraseggia bene, lo sapevamo, però c'è anche il valore dell'avversario ma noi dovevamo fare dei movimenti che non facevamo con coraggio e queste sono le cose che mi fanno arrabbiare perché se si prova qualcosa, si organizza, si prepara la partita, poi bisogna farlo non bisogna avere la timidezza di stare lì e non andare forte a prendere i giocatori però poi da primo e secondo tempo abbiamo fatto un cambio in mezzo al campo anche perché avevo tre giocatori ammoniti e quindi ho inserito Eramo cercando di ricorreggere un pochettino i movimenti che non facevamo, poi abbiamo preso un gol su un calcio piazzato dove facciamo una disattenzione, lo sapevamo che facevano quello schema lì, l'abbiamo visto e queste sono le cose che mi fanno arrabbiare perché poi è un calcio da fermo, è vero che hanno avuto occasioni, io non so qua dire che non abbiamo subito, ci hanno creato delle occasioni è stato molto bravo Nicola Leali a farsi trovare pronto in più occasioni però anche noi poi abbiamo avuto delle occasioni anche nel primo tempo, anche molto importanti dentro l'area e poi è chiaro che chi è entrato per l'ennesima volta questo è il significato di un gruppo di una squadra che è compatta, che è coesa e che crede assolutamente nel raggiungimento dell'obiettivo quindi un'altra volta i ragazzi sono entrati hanno dato un contributo andando a riacciuffare il pareggio con ordine e soprattutto credendoci. Venezia soprattutto nel primo tempo ha un po' sprecato anche grazie a un ottimo Leali, nella seconda frazione nonostante l'inferiorità numerica invece l'Ascoli ha contenuto, ha spinto, l'abbiamo pareggiata ma si poteva anche provare a vincere, secondo lei? Questo che stai dicendo non è intanto che la mente fa la differenza perché se una squadra sta male fisicamente, faccio un esempio, è disorganizzata tatticamente in 10 contro il Venezia dovrebbe prendere 4 gol e invece da questa squadra, la mia squadra va addirittura a giocare un ottimo calcio, ad avere occasioni gol e poi riprende la partita in 10, sono queste le cose mi fanno incazzare perché poi allora non è una questione fisica, non è una questione tattica, non è una questione tecnica perché altrimenti, ripeto il concetto, in 10 dovevamo andare ancora più in difficoltà, invece succede il contrario, succede esattamente il contrario, che incominciamo a giocare, che incominciamo a uscire, che incominciamo a essere più aggressivi, sembra che una volta subito il gol sono a posto, adesso posso incominciare a giocare, questo non va bene, va interrotto assolutamente, su questo che sto lavorando tanto ed è un peccato che questi ragazzi io li posso fare solo i complimenti perché comunque hanno dato l'anima oggi e io li ringrazio perché mi fanno vedere ogni giorno che sudano e sono pronti tutti quanti a dare un contributo, però dobbiamo insieme cercare di partire, iniziare le partite, cosa che abbiamo fatto anche, perché abbiamo iniziato anche delle partite facendo molto bene, questo è un po' il film di questa partita. Visto cosa insegna un po' la storia della Serie B, della Cadetteria, non è il caso magari di pensare prima a non prenderle perché tanto magari l'occasione per fare gol capita? E cosa vuol dire pensare prima a non prenderle? Noi eravamo tutti compatti sotto linea palla, tutti corti, però non facevamo delle scalate quando poi tu non esci su determinato, l'ho detto prima, se tu non esci su determinate situazioni e rimani e tu difendi superiorità numerica in mezzo al campo, da altre parti hanno superiorità, è molto semplice il calcio, quindi sta a me come sempre faccio, cercare le correzioni in corsa, però ci sono delle situazioni che poi, ripeto, non è neanche facile rimanere sempre in inferiorità numerica, io non voglio trovare ali perché oggi sicuramente il Venezia ha creato tanto, forse è la prima partita che ci mette che le ali è così impegnato, però ci sta anche l'inerzia e la forza dell'avversario, quello che non è il discorso di entrare in campo e pensare a non prendere, che discorso è? Questo è un discorso che per me non ha nessun tipo di senso, la squadra era equilibrata, la squadra aveva tutti i giocatori nelle loro posizioni con le loro caratteristiche, è chiaro che non ci riusciva collettivamente a fare delle cose, quindi ho cambiato anche per quello subito, correggendo un po' la posizione di Sabiri e comunque abbiamo fatto un pochettino meglio, poi è chiaro che parti secondo tempo dopo un minuto e trenta, due minuti credo, prendiamo subito il gol di un 1-0 e poi rimaniamo in dieci e diventa tutto di nuovo molto difficile, questo è un po' il problema. Nel 4-2-3-1 da trequartista come lo ha visto Sabiri? Sabiri per me è un giocatore che lo può fare benissimo, oggi ha fatto l'ennesima grande partita anche da mediano, è chiaro che è un giocatore che fa raccordo, corre tanto, da volume, riempie il campo, recupera un sacco di palloni e ha anche capacità di filtrare, di inserirsi, secondo me lì non erano i problemi, ha fatto bene anche Vittorio Parigini se vogliamo, tante volte ha messo in difficoltà il tazzino sinistro facendo l'ammonire con del corto lungo, ha avuto occasione dentro l'aria, ha subito da ui, nella fase difendente avevamo un po' di problemi e questo era il nostro problema, non il discorso del trequartista a posizione di Sabiri, secondo me Sabiri lo può fare benissimo quel ruolo. Lei non ama molto parlare degli arbitri, però c'è stata qualche scelta discutibile, vedi l'espulsione di Brosco? Io non parlo degli arbitri perché ho molto rispetto, lo avevo anche da calciatore, però siamo di nuovo qui a commentare di nuovo un'espulsione secondo me esagerata che assolutamente non c'era perché non ho fatto niente, non è possibile che noi al primo tempo abbiamo sistematicamente tre o quattro ammuniti, non mi sembra una parita cattiva, voglio dire abbiamo degli episodi dove anche noi a Pordenone doveva essere buttato fuori, i giocatori non ce lo buttano fuori, poi Bucca ce lo buttano fuori, Antella non ha fatto niente, Brosco ce lo buttano fuori oggi, poi comincia a diventare difficile, sono tante volte che rimaniamo in dieci. Mi è sembrata una conduzione del direttore di gara molto severa verso di noi, ma molto severa, addirittura l'espulsione chiamata dalla panchina del Venezia e chiamata al portiere che gli va incontro, insomma io penso che questi direttori di gara che qualcuno si deve pronto per affacciarsi alla massima serie e devono avere un pochettino più di personalità, questo è il mio pensiero, poi ripeto, è facile poi sempre recuperare le partite o nel momento migliore come a Chiaveri rimane in dieci, questa è una cosa che mi dispiace, però la accettiamo e speriamo che ci sia una conduzione nelle prossime più serena, un po' più lucida.